Informare sui vari aspetti e il processo di integrazione europea, promuovendo l'istituzione di nuovi corsi di studio relativi al diritto comunitario e all'economia europea, alla scienza politica europea, alla storia della costruzione europea, con riferimento anche all'agricoltura e allo sviluppo rurale, non anche alle riforme in corso. Questo è lo scopo del primo incontro di una cinque giorni fino al primo marzo alla Facoltà di Agraria sul tema sfide e opportunità dei sistemi agroalimentari sostenibili nell'ambito del modulo Jean Monnet istituito dall'Unione Europea. A lei l'onore di cominciare questa serie di seminari, in particolar modo visto il suo ruolo da europarlamentare, ha parlato della PAC. Quali i vantaggi se ci sono della PAC? La nuova PAC cambierà il modo di intervento dell'Unione Europea in campo agricolo e ovviamente cercherà di distribuire le risorse scarse disponibili a tutti gli agricoltori in misura più equa. Rispetto al passato quindi avremo una miglior distribuzione delle risorse, ma il vero problema è che non conosciamo ancora le risorse che potranno essere destinate all'attività agricola. Perché? Perché il Consiglio Europeo del 7 e l'8 febbraio ha fatto una proposta al Parlamento, questa proposta al Parlamento obiettivamente non piace, i quattro capigruppi, popolari, socialisti, liberali e verdi, hanno detto che così com'è non può essere accettata. E quindi lavoreremo insieme col Consiglio per rivedere questa proposta. Non è possibile che per effetto della crisi si vada verso un processo con meno Europa anziché più Europa. Non è possibile una visione intergovernativa dell'Europa, vogliamo un'Europa dei popoli e dei cittadini. I seminari azioni Giammonet, tra i padri fondatori dell'Unione Europea, sono confinanziati dall'Unione Europea e realizzati dal DSEAE, con la collaborazione dei dottorati in economia agroalimentare della Facoltà di Agraria e in economia e politica agraria della Facoltà di Economia. Essi rivolgono prevalentemente a studenti e dottorandi di ricerca dell'Università di Catania. Giammonet è un'azione europea che serve proprio a promuovere lo scambio culturale e quindi di riflessione a livello europeo e favorire in questo modo l'integrazione europea e la crescita di una comunità basata sulla conoscenza. Il ciclo di seminari di quest'anno è dedicato alla sostenibilità nei sistemi agroalimentari. Sono due binomi, sistemi agroalimentari e sostenibilità molto importanti, che i seminari si occuperanno sotto diverse prospettive.